24 chilometri di lunghezza coperti con un tubo in ghisa del diametro di 90 centimetri. Sono i tratti peculiari del tubone della Val di Nievole, la maxi condotta che permetterà di convogliare i reflui che arrivano al depuratore di Pieve e Nievole verso quello di Santa Croce sull'Arno. L'opera permetterà di riorganizzare il sistema di depurazione fognaria della Val di Nievole e della zona del Basso Val d'Arno e vedrà al fianco della realizzazione di nuove opere anche l'adeguamento di impianti esistenti. Il via al progetto annunciato da Acqua e S.P.A. sarà dalla zona di Santa Croce, proseguendo quindi via via verso il Pistoiese. I tempi sono rapidi perché c'è stata già la consegna del primo cantiere ma le gare per gli ulteriori lotti funzionali sono in fase alcune di esecuzione altre di completamento. Il cronoprogramma in questo momento è perfettamente rispettato e quindi contiamo entro la fine del 2021, quindi poco più di un anno, un anno e mezzo, a vedere realizzata quest'opera straordinaria che vale 143 milioni e conta tanti chilometri di nuova fognatura da stendere che i cittadini potranno verificare puntualmente nella loro realizzazione. Una volta ultimato il tubone porterà circa 6,2 milioni di metri cubi annui di reflui che arriveranno a più di 9 milioni con la realizzazione di altri importanti collettori tra Pescia, Uzzano, Chiesin Uzzanese e Ponte Bugianese fino a Pieve Agnevole. Un'opera attesa da qualche illustro che consentirà alla Val di Nevole che oggi è disseminata di tanti piccoli depuratori che ormai sono saturi nella loro capacità di depurazione in particolare non solo per le famiglie ma per le aziende. Consideriamo che tante imprese della Val di Nevole oggi non possono ampliarsi perché non possono aumentare il loro scarico in fognatura in quanto gli impianti pubblici non riescono a trattarlo e che potranno anche immaginare ampliamente i sviluppi futuri proprio potendo contare su un'infrastruttura così importante che finalmente prende il via un accordo di programma che parte nei primi anni 2000, conta tanti soggetti, risorse del Ministero, della Regione, risorse della tariffa e ora finalmente ci siamo.